Ieri è stata la giornata internazionale del dialetto, allora in virtù di questo oggi vi farò il report proprio napoletano, però ovviamente metto sempre sottotitoli in inglese, quindi inizio. Buongiorno a tutti, qui sono anche l'unica e mezza, certo non proprio mattina in bressa, comunque mattina, ma via e mezza diciamo, signore, un maestro, ho semplicemente, ho semplicemente, ho semplicemente David Lynch, è il 22 febbraio, è il 2022, quindi 20 euro, è il 22 febbraio, è il 22 febbraio, è il 22 febbraio, quindi sempre euro, il numero euro. Qui a Napoli è veramente una bella giornata sola, con un ambiente abbastanza leggero, 59 gradi di fare una attenda, 15, 15 celsius, e questo significa che non è che la giornata proprio, proprio, proprio poco fredda, o a meno per me, ok? Cioè fa sempre un poco fredda, ma a meno inusente perché faccio sempre la mia pratica, utilizzo sempre due pratiche per combattere contro l'ho fredda, questo video in cui parla di questi pratiche l'ho già fatto a dicembre, per cui invito a Varese a dire che sarà dicembre, e in cui appunto parla di questi due pratiche che utilizzo per cercare di vincere contro l'ho fredda, perché è impossibile, ma perlomeno combattere. Per quanto riguarda i video in coppia pensieri, ovviamente faccio sempre separato a questo, perché, come da inizio anno, quindi se vi interessa, occhio che ho metto, ho carico più tardi. Comunque, sì, come tutti, come tutti quanti, e come questo povero adesso, la finestra, penso che su pomeriggio, comunque tra poche ore, perché già sull'unica e mezza, la temperatura più o meno sarà sempre la stessa, forse addirittura poco gradi e più, ma pure sono da capire buoni oggi pomeriggio, ma è sicuro, come avete visto dalla finestra, tutto quanto, avremo il bellissimo ciclo azzurro, e anche, eppure, un ciclo bellissimo, solo rurato, per tutto di essere aggiornato. azzurro. Quindi, in questo caso, buona così, che va già a riuscire, speriamo che continuiamo con questo, a così, parlare di giorni. di giorni. Rit questo, detto questo, rami ammitiche, rami ammitiche, rami ammitiche finestriche, a tende colorate, sublime, veramente bellissimo, la soia, tapparella, verd… Anche se sono nell'altra stanza, ma comunque è come se fossi lì, come se stessi là. La rete a me, la coppa a me, ma non so vedere là, ho pure in questa inquadratura. E poi anche la, sta mitica della finestra con queste fiore rosa. Una rosa leggera di cima e una tenda bianca, bianca e rosa. E poi, infine, dalla mia mitica tastiera Yamaha DGX640, IPG625. Abbiate tutti una buona giornata, passate tutti quanti una buona giornata, sì, veramente un saluto a tutti quanti. Sì, abbiamo passato tutto quanti una buona giornata. Buona giornata. Sì, anche se, anche se sono le 11 e mezza, quindi come dico in questi casi, non proprio a mattina prestissimo, comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch. Lynch. It's February 22. 2022. 2022. 22. 22. 22. 22. 22 del 2022. Party. 22. 22. 22. 22. 24. avam? 26. 29.. 30. around 11 celsius, and this means that non è quella giornata, cioè è quella giornata veramente, 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 veramente fredda, come in questi giorni, in questo periodo, anche se, e questo lo dirò sempre fino alla primavera, invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre scorso, per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combattere il freddo. Poi sì, per quanto guarda il video sui pensieri, ovviamente, nel caso vi interessa, lo faccio sempre separato da questo, quindi occhio. Anyway, as you just see from the window, I think that this afternoon, it'll be going to be up to the same degrees of this moment, ma forse anche qualcuno in più, o in meno, vedremo, poi aggiornerò, but surely, as you all just see and you see, we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way, anche se adesso già si vede il sole, perché comunque è mattinata inoltrata, quindi già ce l'abbiamo, però come al solito qui apparirà lì dietro l'angolo verso le tre, quindi bene così, che dire, in questi casi, nulla da dire, per cui said this so from the mythical window with the colored curtain, sublime oggi, nulla da dire, and it's green roller shooter, behind me, on the top, not visible, or air in the shot, in fact, and finally, from my mythical keyboard, the Amadi GX 640 IPG, IPG 625, have a great day, in all the people, follow the Chanda reports, un saluto veramente a tutti, e sare great day!